Easy go! Questo è un fucile d'ordinanza della Mano Nera. Non lancia granate sotto la canna. Un muro blocca la strada. Puoi scavalcarlo? Ok. Ora dove si va? Vai verso quelle luci dall'altra parte della valle. È una grossa torre. Espinosa promette che cambierà il mondo. Niente più tornado o uragani. È quasi tutta Solis, gli crede. Da domani il progetto Yapa non sarà un problema. Se il tuo piano funziona... Funzionerà. Parto. Bene. Segui quel condotto e sarai faccia a faccia con la Mano Nera. Non sarebbe la prima volta. Vado su. Molto perombocò. Alla parte. No. Vado su. Vado su. Vado su. Non erano contenti che ficcassi il naso dappertutto Quelli della mano nera sono mercenari ben addestrati E sono tutti al soldo di Espinosa Il suo esercito privato E anche piuttosto potente Non abbastanza Vedo quelle sporgenze Sei sulla strada giusta Riesci ad attraversare Nessun problema Riesci ad attraversare Riesci ad attraversare Riesci ad attraversare A tutte le unità delle mani nera Abbiamo unitro su fuori Eliminate l'evento privata del prossimo testo. Sono al progetto Yapa. Rico, c'è una console più in alto nella struttura. Non so bene come puoi... Troverò un modo. Hoppla! Sì, c'è un po' di mano, vengono! Via, via! E' un senso di fuori vigente! E' un senso di fuori vigente! E' qui! Restiamo in movimento! Traviti! Restiamo in movimento! Riturati! Riturati! Penso da un sacco diופca! E' un senso! Prendi che propria i uniti! E' un senso. E' un senso di ruolo che sarebbe la voce La voce che sarebbe la voce Non male. Per usare questo condotto per arrivare la sua. Attenzione, il signore Spinoza richiede a tutti i personali di entrare nella struttura. Sta per iniziare il test del progetto. Trova quella console. Meglio non essere all'aperto quando inizierà il test. Manca poco. Grazie a tutti. 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 Allora... Andiamo! 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 Sono parecchi uomini della mano nera Ho superato la sorveglianza Aspetta ancora qualche secondo e potrai muoverti, Rico Lo sto cercando Certo, prenditi il tuo tempo Ecco, trovato Il suo ufficio è quasi in cima alla guglia Tutto questo lavoro e lui è in cima Grazie a tutti